Bentornati su MyFootballGersie. Oggi vediamo un'altra anticipazione per la prossima stagione, la 2022-23. Questa è la terza maglia del Liverpool in edizione FAN. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Che per una maglia così fatta bene con degli ottimi tempi di consegna è bassissima. In descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere quali fantastiche offerte il sito prepara per voi. Ora vi lascio alla parte finale nella quale vedrete la vestibilità. Prima però se il canale vi piace e volete farci crescere lasciate un grande like ma soprattutto iscrivetevi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Ciao! 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 Ciao!